Crash dei mercati, crash delle altcoin break, del livello di supporto più importante per la Total Market Cap della DeFi e quindi Crypto DeFi in fortissima crisi guidate da Luna in particolar modo e CRO Kronos dopo gli eventi diciamo della scorsa settimana ai quali si aggiunge anche questa fase di panic selling dei mercati con Nasdaq 100 che va in crash ancora una volta 3% in questo momento mentre io sto registrando meno 3% Bitcoin debolissimo, Ethereum regge un po' di più, scorre il sangue sotto i ponti è il momento di comprare ben ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi andiamo a fare il punto della situazione probabilmente è cambiata qualcosina da un punto di vista ciclico e dovremmo tenere a mente un po' la seconda ipotesi che avevamo fatto la scorsa settimana quindi ancora mancherebbero in sostanza altri giorni per il crash definitivo è un momento di respiro ma attenzione perché Bitcoin brecca il minimo del mese di gennaio innescando in questo momento è ancora aperta la giornata quindi deve darci la chiusura però innesca teoricamente una inversione di trend di medio lungo periodo in questo momento manca l'ultimo livello il minimo del 2021 se brecca quel livello lì sancisce in maniera definitiva matematica l'inversione di trend di medio lungo periodo e quindi il bear market ufficiale che ovviamente c'è ragazzi non è che non c'è però l'ufficialità matematica mancherebbe al break di quel livello è da un po' di settimane che cerco di allertarvi il più possibile nel ridurre quella che è la volatilità del vostro portafoglio ho fatto video specifici per mesi 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 e mesi dove vi ho detto ragazzi di stare attenti alle altcoin in particolar modo deve tenere magari bitcoin in portafoglio che comunque non sta performando benissimo ma non fa i meno 10 delle criptovalute delle altcoin e in particolar modo vi ho presentato anche nell'ultima settimana quella che era la strategia di crypto spread trading che è andata alla grande ve la faccio vedere anche adesso anzi ve la mostro direttamente in questo momento ragazzi la crypto spread trading che ho portato al crypto trading day alla conference di Bologna proprio la scorsa settimana venerdì è stato un successone veramente ragazzi super grazie perché eravamo un botto di gente oltre 1200 persone ma poi soprattutto è veramente entusiasmante creare queste cose e incontrarci tra di noi vedete che l'un-realized profit di queste strategie è in positivo quindi più di 2000 dollari incrementati di altri 1000 dollari da quando ho presentato la strategia proprio per difendersi dai momenti di crescita di mercato si è innescato in questo momento anche lo spread corretto tra Solana e Luna proprio perché la debolezza di Luna rispetto a quella di Solana ha innescato in questo momento già ha portato questo spread che soltanto venerdì quando ho presentato la strategia davanti alla platea era negativo adesso positivo di circa il 10% sul capitale investito allora la strategia di spread trading ragazzi la trovate nei miei moduli premium del corso it's 30 in basic 2.0 oggi chiude l'offerta di lancio mancano 10 lezioni da registrare per il corso 2.0 ragazzi e poi i moduli in questione allora ho voluto fare una super offerta includendo tutti quelli che sono i moduli premium che sono la vera novità di questo nuovo percorso ragazzi cioè i moduli dedicati alle strategie singole quindi in questo caso la crypto spread trading è regalata totalmente nel modulo premium pack che come vedete porta lo stesso prezzo dello standard questo proprio perché io in tutti i modi possibili ho detto questa strategia la voglio regalare all'interno di questo corso almeno in questa offerta lancio ragazzi perché era importante proprio nelle fasi di crash andarla a conoscere poi ovviamente ragazzi il mercato è così veloce che non ci lascia nemmeno il tempo di andare a fare i lanci e le promozioni ragazzi poi nel master pack avete addirittura anche gli altri moduli della gestione del portafoglio cripto e il mindset e la psicologia del trading in queste situazioni assolutamente è molto importante l'offerta finisce oggi 9 maggio alle ore e mezzanotte e 59 ragazzi e non la riproporremo più relativa ai moduli i moduli poi saranno acquistabili singolarmente a prezzi decisamente più alti quindi avete tempo fino ad oggi non ci sono limiti ragazzi di numero di persone quindi l'abbiamo resa veramente open a tutti quanti tra le altre cose poi di questa strategia soprattutto la crypto spread trading andremo a inserire di più anche all'interno della academy ragazzi quindi questi sono i moduli premium inseriti che sono da registrare ma consentitemi di rientrare oggi e da domani mi rimetto a finire tutto quanto l'ambaradam allora ragazzi modulo spread trading vi ricordo che va utilizzato su exchange cani future in short ftx oppure delta exchange io questi li ho fatti anche su delta exchange vi lascio il link di entrambi questi exchange in descrizione dove potete provare a testare le strategie di short selling mi raccomando se non avete formazione non vi azzardate a fare short selling sui mercati ho dedicato diversi moduli comunque li trovate anche gratuiti su youtube cioè ovviamente nel corso la spiegazione di come si fa nel modo corretto ma su youtube gratuitamente trovate mille lezioni mille no due tre lezioni allora ragazzi andiamo a vedere lo so che per molti di voi la questione è un po' drammatica e lo capisco ragazzi però c'è poco da fare bitcoin crolla senza più limiti ma è trainato da nasdaq 100 vi mostro poi luna in panic selling già i livelli di break del livello di supporto sono vicini sta per andare dove deve andare luna è in fase di chiusura del ciclo annuale prima degli altri ed è quello che stiamo vedendo in questo momento come risposta cro fa quello che doveva fare come vi ho detto la settimana scorsa state lontani dal cro dopo il breakout di questo livello sta andando giù poi magari una volta arrivato in alcune aree magari queste aree qui per esempio in questa zona e se bitcoin dovesse reagire potrebbe essere interessante eventualmente andare a prenderlo in considerazione ma dai break della scorsa settimana in pratica da quando eravamo qui un ribasso qui sotto è un meno 40% scusatemi se è poco ragazzi ma io non vado a comprare contro trend uno strumento che ha un trend che ha un ciclo annuale al ribasso in questo momento è pericolosissimo soprattutto a causa della debolezza di bitcoin andiamo a vedere che cosa cambia da un punto di vista di analisi ciclica in maniera più veloce possibile ragazzi probabilmente anzi ormai lo possiamo dire quasi sicuramente visto che il 5 fino al 5-6 massimo di maggio potevamo andare a reagire da qui il mercato non l'ha fatto perciò il ciclo mensile è già ribassista ed è stato chiuso in questa giornata intorno al 18 di aprile totalmente al ribasso era stato breccato l'altro giorno quindi o chiudeva nell'arco di pochi giorni un ciclo a no diciamo standard fatto in maniera diversa oppure questo era un mensile al ribasso ragazzi purtroppo non c'è la soluzione io non faccio short lo sapetelo anche detto in maniera calorosa sul palco dello stage di Crypto Coinference e mi avete applaudito ragazzi per la mia presa di posizione un po' ideologica, religiosa oserei dire di non fare short su bitcoin sulle altcoins sì su bitcoin no però ragazzi insomma questa è ovviamente un trend ribassista ok quindi una versione di questo tipo o lo shortate voi io non lo faccio per ideologia però questa è la questione insomma su bitcoin il breakout di questo livello che è ormai avvenuto nella giornata di oggi è vero che ancora non è confermato ma lo sarà probabilmente tra poco sancisce anche l'inversione al ribasso dell'intero ciclo trimestrale che probabilmente o ha chiuso qui ragazzi addirittura sarebbe un disastro proprio una cosa del genere oppure deve ancora chiudere se chiude comunque un ciclo ribassista il che significa che con grande probabilità a meno di situazioni eccezionali quindi di aver allungato un ciclo semestrale così tanto e cioè vi faccio vedere da qui a qui in pratica quindi 300 giorni a questo punto direi che siamo fuori ciclo semestrale assolutamente fuori quindi probabilmente il ciclo semestrale di bitcoin è virato al ribasso anche lui come quello di CRO della scorsa settimana e che non depone bene perché ci porta a una conclusione definitiva da un punto di vista di teoria ciclica ragazzi o inizia un nuovo ciclo annuale in sostanza oppure questo trend ribassista durerà fino alla fine di questo ciclo annuale che è teorica tra luglio e settembre ovviamente non credo che scenderemo così ragazzi probabilmente andremo a rimbalzare anzi spero proprio che sia in questo modo ma il breakout è stato imponente di questi giorni candele rosse importanti anche di bitcoin sui grafici di natura settimanale perché spesso si sottovalutano queste indicazioni sempre con un atteggiamento un po' oserei dire negli ultimi mesi ragazzi un po' prepotente della diciamo contro il mercato ricordatevi che il mercato vince sempre trend is your friend quindi quando andiamo a strutturarci un tipo di analisi un tipo di strategia o andiamo a favore di mercato o accusiamo quelli che sono i rischi di subire un attacco del mercato come quello che vedete a questo punto siete al ring all'angolo con Rocky Balboa che vi martella non c'è via di fuga e questo è il problema del non seguire il trend ragazzi e questo è il problema del mindset e a questo che serve studiare risolvere tutti questi problemi prima che si verifichino si verificano una volta ogni due anni ma quando si verificano puntualmente vi mandano in tilt portafoglio tutti i rendimenti creati tutti quelli che sono i profitti creati tutto quello che è il vostro mindset tutto il vostro capitale umano del trader capitale psicologico del trader oltre a quello economico non avete poi la forza vi innervosite vi rovinate la vita tante cose ragazzi allora quando si forza la mano su alcuni meccanismi capisco bene che per molti di voi è una questione di conflitto perché tu dici ah tu fai i corsi per questo lo dici non è così anche se fate quelli degli altri mi sta bene uguale anche se andate a leggere centinaia di libri mi sta bene uguale ragazzi non si può fare trading o investimenti su nessun mercato crypto compreso senza sapere un tubo di quello che andate a fare va bene lo diciamo a caldavoce o almeno i più diciamo standard lo dicono a tutti non si compra contro trend non si comprano le cose che cadono vincete quasi sempre ma quella volta che perdete avete lasciato il piatto sul piatto tutto quello che avevate fatto con grande parsimonia è questo il problema va bene ragazzi allora qua vediamo anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele rosse totalmente negative settimanali oggi questa è la settima appena iniziata ovviamente quindi magari questa diventa verde magari lo speriamo però ragazzi anche questa è una serie storica outliers rispetto alle serie storiche mi sono trovato a discutere di questa questione legata alla probabilità con una tabella psicoanalizzata pubblicata su community addirittura non italiane quindi americane presunta spacciata come probabilità non è una probabilità è una serie storica l'ho spiegato la probabilità è sempre 50 e 50 se è una candela rossa o verde poi c'è la serie storica che ci dice che teoricamente ci avviciniamo a cose che non sono mai successe questo non vuol dire che non succederà perché non è una questione di probabilità ma è un po' più difficilotto per una questione di serie storica come l'estrazione del numero alla lotteria però insomma proprio a conferma di quanto avevo insomma dibattuto poi ecco magari in academy insomma su questa cosa settimana scorsa ha tirato giù proprio la candela rossa su bitcoin siamo alla settima sul sul mercato in questo caso vediamo se si ferma il tutto andiamo a capire un po' la questione ciclica finale se questo ciclo sta andando a chiudere è il mensile teoricamente ragazzi questi tipi di mensili così di bassisti sono mensili di sciacquone finale che poi va a chiudere un ciclo superiore quindi io penso che ancora un'eventuale fase di rimbalzo sia possibile purtroppo questo massimo non ha raggiunto l'area che aspettavamo 52 54 perché questo massimo del semestrale di bitcoin doveva fare questo percorso qui è arrivato intorno ai 50 49 purtroppo a causa non delle cripto ma di nasdaq ma dei mercati old che stanno trainando tutto questo ribasso non ci siamo arrivati è un grande danno perché ora quando andiamo a iniziare la fase di ribasso che intanto è stata troppo veloce troppo pronunciata quindi speriamo si ci fermi per qualche mese perché così andiamo malissimo a continuare a scendere ma quando abbiamo iniziato questa fase cosa è successo che il mercato è andato a breccare subito i livelli di minimo del ciclo semestrale e così si avvicina al minimo del ciclo annuale e non è mai successo ragazzi io ve lo dico qui e l'ho già detto che vi avevo accennato questa cosa ma bitcoin nella sua storia nella nascita della sua storia da quando è stato creato bitcoin non ha mai breccato il minimo dell'anno precedente nell'anno successivo questo significa che teoricamente bitcoin non è mai andato sotto il minimo formato il precedente anno il minimo formato quest'anno cioè l'anno 2021 non quest'anno l'anno scorso è di ve lo faccio vedere ragazzi 29.000 dovrebbe essere in questa zona 28.000 e 6 va bene 28.000 e 6 è vicino vicino ma molto vicino perché manca il 10% se dovesse rompere al questo tipo di minimo è la prima volta nella storia che fa un'inversione di trend così rilevante rispetto al passato quindi attenzione anche a cercare di andare a replicare atteggiamenti passati di mercato sui mercati futuri perché non sempre avvengono può essere che magari poi lo break poi si insomma va a recuperare ma c'è poco da fare sotto questi livelli è un'inversione di trend bella e buona di una barra di congestione fatta così quindi con un breakout di una barra di congestione che in pratica va ad esistere da quasi due anni fatevi voi un po' i conti dal punto di vista di amici tecnica un'inversione del genere è una mazzata stratosferica ragazzi quindi non deve avvenire o comunque non così velocemente se avviene alla fine del ciclo annuale ci può anche stare ma mancano ancora troppi mesi questa è la mia preoccupazione non voglio assistere e nemmeno vedere queste cose comunque allora andiamo a vedere se ci sono livelli di supporto per quanto riguarda bitcoin in questa fase l'unica zona di supporto è questa qui ho anche dei livelli della mia strategia mensile che purtroppo è anche entrata con pochissimo capitale a 34 circa qualcosa per un'inversione di un sistema quindi adesso stiamo assistendo a questo flash crash vediamo se insomma andrà malissimo comunque il primo livello era 31 e 5 quell'operazione la lasciamo perché ha lo stop sulla fine del mese quindi ancora manca un po' di tempo non mi preoccuperò e poi magari eventualmente la andiamo a chiudere sotto alcuni altri minimi avevo già accennato che probabilmente saremmo andati a inserire degli stop loss su quell'operazione per la pericolosità del momento ma è comunque fatta con pochissimo capitale come nel mese precedente proprio per la rischiosità di questo momento allora poi la vedremo insieme ragazzi vediamo come andrà a finire quell'operazione allora così impariamo anche a gestire un po' una posizione perdita questa è la zona di supporto 31 e poi 29 tutta questa zona qui ragazzi questa è una zona di supporto sotto il quale non si salvi chi può ma si salvi chi l'ha già fatto secondo me perché la questione si mette male male proprio male andiamo a vedere Nasdaq e poi guardate qui la total market cardella DeFi quindi poi andremo a vedere nel video di oggi anche CRO e Luna perché Luna è anche lei in fase di forte crisi quindi intanto assistiamo per capire quello che sta succedendo e poi vediamo anche se regge no perché quella è un progetto estremamente innovativo vediamo se regge anche una fase di questo tipo il Nasdaq è il motore che traina questa fase di bassista con 1, 2 3, 4 5 candele rosse totali settimanali non so neanche l'ultima volta che è successa una cosa del genere eccola qui ragazzi 2008 la crisi Lehman Brothers e la crisi dei muti su Prime guardate qui una cosa giusto per capire la particolarità di questo momento e anche la difficoltà di questo momento particolare sapevamo un po' che i mercati old fossero in una super bolla lo abbiamo detto per più più tempo che erano rischiosi rischiosissimi non noi speravamo e a dire la verità che i mercati cripto venissero un po' esentati è anche vero che rispetto al solito non vanno giù con la stessa velocità rispetto a un crash di mercato old fatto in questo modo però tanto è vero che insomma un po' male fa ok allora andiamo a ricalcolare quella che è la struttura della percentuale perché secondo me è più importante calcolare questo meno 26 allora se arriviamo qui meno 32 siamo ancora nella normalità purtroppo vedete che la chiusura del ciclo annuale del Nasdaq avviene anche qui viene riportata secondo i conteggi intorno alla fine del mese di agosto quindi tutto il mese di agosto non mi sembra che ci sia una possibilità di reazione del mercato in questo momento però siamo vicini ad un livello che vi faccio vedere di supporto cioè questa zona che non è in realtà un supporto rilevantissimo ma il mercato potrebbe sentirlo perché è il livello intermedio fra due livelli di supporto quello precedente che sta breccando proprio in questa settimana è il successivo intorno ai 10.000 Arthur Hayes è la mia analisi fatta anche del suo paper due settimane fa sulla possibilità che Bitcoin tornasse a questi livelli e addirittura Nasdaq sprofondasse addirittura sotto i 10.000 si sono verificate e un applauso da parte mia ad Arthur Hayes per questo tipo di analisi macro che era assolutamente plausibile avete visto poi quelle sono le vere analisi fondamentali ragazzi sui mercati analisi macro che ovviamente poi vengono assolutamente rispettate dai mercati andiamo a vedere il Toton Archie Cup della DeFi ve la faccio vedere giusto perché il DeFi Reversal Pattern che stiamo seguendo da circa 6 mesi sulla DeFi si è materializzato nella scorsa settimana con la chiusura sotto il livello famoso dei circa 110 billion questo qui è andato a chiudere qui ma mantenendolo a shadow adesso sta andando giù teoricamente ancora una volta ha invertito il trend in maniera definitiva perché ha fatto questo primo swing al ribasso confermato da questo minimo inferiore precedente una impennata a tentare di riprendere il vecchio massimo non c'è riuscito un minimo inferiore come vedete da un punto di vista di analisi statistico matematica questa è un'inversione di trend di medio periodo bella e buona dove va a finire questa fase va a finire anche lei teoricamente verso fine agosto metà agosto perché è la data più importante che a questo punto dovremmo portarci dietro quindi l'estate ragazzi perché io vi dico l'estate non mi sbilancio perché i cicli annuali sono lunghi con fatti di ribasso fatte così imponenti possono anticipare chiudere prima magari e non arrivare molto lunghi perché magari fanno troppa strada velocemente crashano prima insomma è troppo troppo c'è troppa deviazione standard lo dico tecnicamente troppa volatilità sui cicli annuali in un momento del genere quindi sbilanciarmi con delle date precise non ha senso quindi io mi tengo sempre nell'estate luglio settembre quella zona lì e poi andiamo ovviamente man mano che ci avviciniamo a mettere la lente di ingrandimento e aumentare la nostra capacità previsionale quindi attendiamo che bitcoin faccia questa sua reazione soprattutto guidato anche da nasdaq Ethereum ma ancora è più tranquillo è il segno anche della importanza di questa della regina delle cripto in questo momento e della sua nuova rinata struttura di natura anti inflazionistica ragazzi la deflazione di Ethereum la struttura nuova del protocollo ha cambiato i connotati guardate che grafico ha Ethereum rispetto a quello di bitcoin qui però vi devo mettere eccolo qui lo vedremo un po' sporchiccio però questa è la struttura in questo caso ragazzi guardatela anzi facciamo così la vediamo qui la struttura di bitcoin e poi la struttura di ETH leggermente vedete più forte poco 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 più forte questa zona è un po' più down qui invece siamo tutto un po' più su andiamo a rispondere invece ai quesiti relativi a Luna Luna CRO crash non crash appoghiamo non appoghiamo e intanto vediamo subito il grafico di Luna e i suoi meno 11 oggi ancora una volta ragazzi don't break don't buy the tip su un mercato che sta invertendo un ciclo il breakout di questo livello di minimo sancisce un'inversione di ciclo trimestrale iniziato da poco questo significa che in teoria questa cripto scende fino a questa area di tempo non di prezzo ragazzi e cioè giugno luglio anticipa di un mesetto probabilmente quello che avverrà a bitcoin ve l'ho detto ieri qual è la questione che Luna intanto non è bitcoin e ethereum e può essere fortemente influenzata in questa particolare situazione anche da una questione emotiva perché c'è tanta paura è la prima volta che assistiamo a un bear market con delle cripto algoritmiche e delle stablecoin algoritmiche è vero che Luna è blindata ragazzi blindata influisce anche negativamente sul prezzo di bitcoin per via del fatto che vengono venduti bitcoin per sostenere il peg di usd se non erro penso devo approfondire tutto il meccanismo ma è proprio dovrebbe essere questo il meccanismo pare che ancora però non hanno quindi se li sono fatti prestare ecco perché insomma c'era qualcosa che ancora non è automatizzata quindi l'hanno dovuto fare manualmente però il concetto più o meno è quello lì ragazzi quindi influisce anche su bitcoin però bitcoin ce l'ha questo è molto importante perché la prima volta che una stable algoritmica comunque ha dietro le spalle una forza con la valuta principale delle crypto che è bitcoin che tenta di sostenere insomma è un esperimento vediamo se sostiene vediamo se dura dovrebbe farlo insomma ok quindi cresce fallimenti totali di un protocollo anche questo ragazzi è complottismo allo stato puro non abbiamo nessun dato per parlare di queste cose quindi che il trend è invertito è sacrosanto dato oggettivo e questo lo vediamo dai grafici che da qui crasha il mondo finisce esplode e invece della luna si ritrova un cratere questo è un'invenzione bella e buona ragazzi poi tutto può succedere nella vita ma comunque un protocollo che sta tentando di sostenere un'innovazione come quella che ha fatto luna e ci proverà in tutti i modi poi ovviamente non è uno scam almeno non così sembra allora qui è una struttura che è partita da questa fase ultimo ciclo semestrale corto di questa struttura di luna che è una ciclicità ternaria come vedete luna se ne va in chiusura dell'annuale in teoria da teoria classica della ciclica questo minimo dovrebbe venire breccato verso la fine del mese perciò ragazzi la soluzione è che probabilmente tutta questa fase vada a terminare in questa zona sotto i 40 dollari stiamo vicini non c'è niente di anomala una cosa del genere perché semplicemente dovremmo stare a un altro meno 40 cose che una cripto del genere può fare in due giorni giusto per capirci ora che lo fa sicuro non lo non sicuro io in questo momento ragazzi non ho operazioni in attesa di ingresso su luna l'ho shortata ma l'ho shortata perché sono long su solana quindi non ho fatto uno short secco su luna ma uno short spread con la mia strategia crypto spread trading proprio bilanciato quindi solo di forza relativa quindi in questo momento sto immaginando una maggiore forza di solana a resistere alle fasi di bassiste rispetto a luna per tanti motivi anche perché luna ha corso di più entrare buy adesso se fate trading è un discorso quindi se state cercando un ingresso da trader potete anche tentarlo perché in questa zona qui per esempio c'è un livello di supporto importantissimo però il precedente che è l'intorno ai 60 l'ha bucato oggi io non farò mai trading in questo momento su una coin del genere perché secondo me è estremamente rischiosa per quanto riguarda invece operazioni di medio periodo mi ragazzi direi assolutamente di no perché il ciclo con questo massimo storico si è invertito qui il trend si è invertito non abbiamo nessun segnale di ripresa quindi io attendo anche perché voglio dire si può comprare comunque anche a inversione di trend successiva rialzo cioè non è che c'è l'ultimo mio di bitcoin l'ultimo ciclo della bull run l'abbiamo comprato a 7-9 mila dollari rispetto ai 3 mila e passa di minimo però siamo stati belli sereni e tranquilli prima di entrare mentre crashava il pianeta con la pandemia quindi insomma c'è un po' da stare sereni anche in questa fase capisco bene che chi è dentro ha difficoltà a ragionare ragazzi però io non ho diciamo non riesco a darvi un consiglio differente perché chi di speranza vive di sperato muore nei mercati quindi non è così bisogna attendere questa fase allora ciclicità è al ribasso la nice ciclica ci dice che ci servono altri due mesi su questa cripto per eventualmente invertire questa fase ciclica che è probabilmente il minimo a 43 non dovrebbe reggere ma questo dipende dalla forza della coin però in teoria classica non dovrebbe reggere se la sposiamo a quello che sta succedendo sugli altri mercati potrebbe essere così nei prossimi 2-3 mesi andare a inserire degli ordini ora non la vedo cioè la vedo non lo so non la vedo una cosa sensata volete fare un piano d'accumulo boh aspettate magari un'inversione non lo so mi fa sempre queste domande andare a comprare una cosa che crolla non lo so boh fate voi io non lo faccio io vi dico come ragiono io e cosa insegno nei miei corsi nella mia mentalità ed è per questo che ragazzi siamo cioè siamo in una situazione più diciamo meno meno volatile insomma proprio per questi motivi andiamo a vedere CRO altro profondo rosso un pochettino anche quello ve l'avevo assolutamente già indicato come non lo trovo più perché ha invertito il trend l'ho messo nelle rosse guardate le rosse ragazzi fatevi due risate va bene allora CRO questa è la struttura stiamo andando in una fase probabilmente mediana quindi una chiusura tra poco di un ciclo ma è tutto a ribasso quindi non c'è anche qui ragazzi vedete siamo a 100 giorni quindi probabilmente la struttura ciclica il CRO del trimestrale è stata chiusa qui ha fatto un trimestrale spaventoso in questo momento se dovessimo andare più o meno a un semestrale ce ne andiamo ad agosto per chiudere questo semestrale e non so insomma io questa credito la vedo malissimo ragazzi in questo momento non ho ha fatto quello che doveva fare breccando quest'area qui ha fatto l'inversione e poi è andata giù qualcuno di voi tirerà questa trendline ve la tiro io così la fate diciamo direttamente già vi spiego che questa trendline è sbagliata perché in realtà la trendline vera va disegnata su un grafico non logaritmico perché a livello matematico le trendline non funzionano sui grafici logaritmi se li fate però nel lungo periodo nel brevissimo sì quindi uno due mesi sì ma non così quindi questa è la vera trendline non quella lì e capite bene che questa trendline ha un livello di arrivo che è intorno agli 0.15 quindi non è assolutamente così vicino ora poi se andiamo a ridisegnarla esce fuori una cosa del genere e lo posso pure capire però ragazzi questa non è la vera trendline quindi perché non si costruisce sul grafico logaritmico quindi non la usate i livelli di arrivo questo era un livello di supporto mi sembra strano lo booki con questa facilità se lo fa durante questa giornata è proprio brutto ragazzi speriamo che si riprenda poi nei prossimi due o tre giorni questo comunque zona 0.18 è un punto d'arrivo ma ripeto sul CRO non c'è ciclica qui e mi indica una struttura ribassista ora c'è anche da dire come vi ho spiegato più volte che CRO è una coin manipolata in una maniera stratosferica dal team perciò se decidesse domani il crypto.com di farla raddoppiare lo farebbero in 30 secondi perciò non c'è analisi tecnica che regga su coin così manipolate ma allora a questo punto ci sarebbe anche da dire perché andare a prendere una coin così manipolata spenando in un futuro regalo da parte del team non lo so ragazzi queste sono scelte di natura soggettiva io comunque li continuo ad avere per la carta e quel pezzettino che hai in DeFi non li tolgo perché semplicemente mi mantengono la carta ragazzi quindi quello che ho lo mantengo non è tantissimo vediamo con la carta hanno cambiato nuovamente un po' quelle che erano le condizioni come vi avevo detto perché avrebbero fatto perché è un giochino di marketing molto importante vi faccio vedere comunque una cosa interessantissima perché qui vedete anche la struttura vedete una metà del ciclo annuale quindi questa però questa metà è qui ragazzi e poi deve fare così non lo so magari ecco i prezzi lasciateli perdere però la struttura è questa qui questo è il problema di CRO di gran lunga diversa la situazione di Luna ragazzi perché la situazione di Luna oggi viene un video di 16 km non me ne volete però è diciamo una situazione un po' diciamo particolare la situazione di Luna ha un ciclo annuale che per quanto sia in questa fase di chiusura complicato guardate qui però è 1, 2 e 3 cioè questo sta facendo la chiusura di un ciclo annuale che è iniziato qui sotto a 3 dollari siamo a 60 e insomma allora completamente diverse le sorti di un progetto del genere certo c'è anche più spazio per scendere magari se ci dovesse essere un po' di panico ecco questo sì però questi sono i dati allora cosa faccio io attendo un reverse se lo fa di Bitcoin e se lo fa ragazzi riaggiorneremo tutti i grafici perché questa potrebbe essere anche una fase in cui il mercato si va a chiudere un ciclo più stretto quindi una specie di mensile da 22 25 giorni a chiudere perché il precedente mensile era un poco poco più largo quindi ci può stare e poi vediamo ma però insomma però non si può dire non cambia la struttura invertita del ciclo trimestrale quindi se il semestrale è iniziato a luglio è ribassista se tutto quello che ci siamo detti finora sette mesi sei mesi è giusto scendiamo fino a l'estate bar settembre e non scendiamo di litti ragazzi probabilmente cercheremo di fare sul giù però in sostanza è difficile che si rivedano più altri prezzi probabilmente 52 54 ormai è spumata quindi non c'è niente da fare bisogna solo resistere il più possibile usate strategie di edging come la spread trading che vi ho spiegato alla crypto conference ragazzi a tutti quelli che erano registrati al mio webinar usate anche strategie basate sulla semplice vendita di tutto ciò che è estremamente volatile se avete perso avete perso riducete l'esposizione alla volatilità e siate oculati sempre così si lavora ragazzi non aumentando la volatilità non è una questione di vendere le posizioni in losso che questo dipende dalla vostra strategia ma è una questione di non ballare troppo nei momenti di burrasca il coin d'oro è qui non ha funzionato negli ultimi mesi ma lo teniamo sempre qui passo e chiudo ciao a tutti qui